La stanno abbandonando, la stanno abbandonando, la stanno abbandonando ragazzi, non la difendono neanche, la stanno abbandonando. Il problema sapete qual è? Che l'Ungheria sta portando delle prove all'Unione Europea, cioè dice l'Unione Europea, ma l'avete capito voi che avete eletto una criminale oppure no? Cioè, l'avete capito no? E sta succedendo questo che l'ABS è nemmeno pressa per darle una mano, cioè mi si dice, oh, può essere anche che non sia il momento giusto no? A bestia, voi, in altri 6 per i 100 mi iscriviti, attiva della campanella, per ogni aggiornamento, sempre a bestia, di cuore grazie a ognuno di voi. Ehi, lasciate like, pollicione nei su, una cosa più importante, altrimenti l'algoritmo non mi vede, mi metti in fondo. Vai, il favore è gratuito, di cuore, grazie. Ora, tornando alla Saris, scusatemi, perché si è messa a piangere? Di nuovo? Sapete la gravità della cosa? È che da Orban e dall'Ungheria che hanno fatto, diciamo, una specie di propaganda europea, perché alla fine rimane sempre una propaganda europea, si è passati però in qualcosa di un po' più costruttivo, per loro però, nel senso reale. Il Parlamento europeo sta valutando seriamente l'esposto dell'Ungheria che vuole che la Saris le si tolga l'immunità parlamentare. Beh, ci dai, sono fatti bravi, allora scusate un po', ho capito che questa è una cosa fatta apposta per far vedere che l'Ungheria non si piega a nessuno. D'accordo? Quindi, dovevate farlo vedere prima con l'Italia, adesso lo state facendo vedere a tutta Europa. E vabbè, però in realtà non ho capito seriamente sul serio ragazzi, perché comunque pigi così sull'acceleratore l'Ungheria. Ho portato delle prove e le sta valutando attentamente. Sembra che abbiano consigliato la Saris i suoi del gruppo left, guarda, forse è meglio che ti dimentichi che fai prima. Ma la notizia reale è che il Parlamento europeo sta seriamente valutando l'idea di togliere l'immunità parlamentare e quindi se la tolgono continuerà a fare l'euro parlamentare, ma lo farà in galera. E tutto ciò, in lacrime davanti tutti, permettete a questa persona di vincere. E te credo che se sta cagando sotto, e te credo. Se li togliere l'immunità parlamentare? Vabbè, speriamo bene per la Saris, dai. Spero che non abbia fatto niente, però le prove dico verso le prove. Ditemi la vostra nei commenti. Ma che poi tra l'altro, che cacchio è diventato il Parlamento europeo? Un tribunale!